Salve a tutti, eccoci per la continuazione dello svolgimento delle prove relative al concorso STEM. Ovviamente queste prove sono state svolte a luglio, nel precedente video vi chiedo scusa se ho detto agosto, in particolare questa prova è relativa al 6 luglio, la prova della mattina a 0,28. Abbiamo già risolto le prime 5 tracce e ci apprestiamo a risolvere quelle successive. Prima di iniziare, se ancora non l'avete fatto, se vi ritenete utili questi video, potete iscrivervi al canale YouTube per rimanere sempre aggiornati e poi alla fine del video vi dirò anche altre informazioni, a mio avviso estremamente utili per la preparazione del concorso ordinario. Ok, leggiamo la domanda 6. La risposta esatta è la risposta di 4,6 miliardi. In particolare, attraverso misure radiometriche è stato possibile arrivare a questa stima. Infatti, le più vecchie rocce della Terra sono vecchie solo di, si fa per dire, di 3,9 miliardi di anni. E tra l'altro sono rocce anche molto rare. Ovviamente, data la difficoltà di riferire rocce, la cui età sarebbe compatibile per stimare l'età del Sistema Solare, si sono studiati i meteoriti sul pianeta. E quindi, avendo trovato meteoriti come quelle del Canyon Diablo, di 4,6 miliardi di anni, si è stimato, insomma, che il Sistema Solare possa avere un'età pari a circa 4,6 miliardi di anni. Quindi, domanda 8. Da un cilindro circolare retto, di altezza H e raggio di base R, viene tolto un cono retto, a pente e base altezza coincidenti con quello del cilindro. Quindi è un'operazione, lasciatemi dire, booleana. Si indica con V1 il volume del solido così tenuto e con V2 il volume del cono. Quanto vale il rapporto V1 su V2? Ok, focalizziamoci qui sulla figura. Abbiamo un cilindro di altezza H e raggio di base R. Allo stesso tempo, vi è un cono retto che ha la medesima altezza e la stessa area di base. Allora, per trovare il volume V1 del solido che si ottiene togliendo dal cilindro il cono, bisogna quindi trovare il volume del cilindro meno il volume del cono, quindi πR4H meno πR4H terzi e semplicemente quindi si ottiene 2 terzi πR4H. A questo punto ci viene chiesto il volume. Il rapporto tra il volume del solido così tenuto è il volume del cono. Quindi V1 su V2 è 2 terzi πR4H fratto il volume del cono πR4H fratto 3. Come vedete si semplificano tutti ππR4R4 e H e H3 e 3 e rimane il rapporto 2 che è la nostra soluzione. Ovviamente ho cercato anche di farvi un grafico per cercare, insomma, anche graficamente di comprendere qual era la richiesta. Ok, leggiamo la domanda 9. Una pila da 4 volte e mezzo, e qui vi è il circuito elettrico, alimenta un circuito in cui sono presenti 3 lampadine e dobbiamo pensare alle lampadine come delle resistenze, uguali tra loro, quindi con medesima resistenza, e disposte come in figura. Se si svita la lampadina L3 e la luminosità della lampadina L1, che cosa fa? Ovviamente la luminosità aumenta se qui la resistenza diminuisce e viceversa L1 diminuisce come intensità di luce, quindi come lumen, se come questa resistenza e questa resistenza, chiamiamola R1 e R2 in parallelo con R3, sono in serie, ovviamente se aumenta la resistenza R2 e R3, ovviamente vi è una caduta di potenziale maggiore, quindi la luminosità della lampadina L1 diminuisce. Allora, andiamo ad analizzare quello che accade in L2 e L3. In realtà qui la resistenza, se si toglie L3, se si toglie la lampadina R3, L3, ovviamente la resistenza aumenta. Perché? Perché abbiamo delle resistenze in serie. E sappiamo che la resistenza, scriviamola così, il reciproco della resistenza equivalente è pari a 1 su R2 più 1 su R3. Questo ovviamente quando L2 e L3 sono connesse entrambe. Allora, si può vedere facilmente, con semplici passaggi, che la resistenza equivalente di resistenze in parallelo diminuisce, ma quindi se diminuisce, lo vediamo da qui, la resistenza equivalente è pari al prodotto delle resistenze fratto la loro somma, ma è minore della singola resistenza, quindi è minore sia di R2 ed è minore sia di R3, la resistenza equivalente. Nel momento in cui quindi vado a togliere una delle due, che comunque sono tutte identiche, ma vado a eliminare L3, ovviamente abbiamo detto che la resistenza R2, leggendola in questo verso, è maggiore della resistenza equivalente precedente, quindi aumenta la resistenza qui dentro, e quindi vi è una caduta di potenziale maggiore e quindi diminuisce la luminosità della lampadina L1. Spero, insomma, di aver dato anche qualche formula che può essere utile per prepararsi al concorso ordinario. Ricordo che la resistenza equivalente di, invece, resistenze in serie è pari alla somma delle varie resistenze. R ennesima. Benissimo, andiamo avanti. Domanda 10. Vengono lanciati simultaneamente due dati equilibrati, uno a forma di dodecaedro regolare, quindi con facce numerate da 1 a 12, l'altro a forma di cubo con facce numerate da 1 a 6. Sommando i punteggi ottenuti, qual è la probabilità che esca proprio 9? Allora, dobbiamo ricordarci che la probabilità è il rapporto tra i casi favorevoli, quindi casi favorevoli fratto i casi possibili. In questo caso abbiamo 12 casi possibili, tirando il dato a forma di dodecaedro, perché possono uscire tutti i numeri compresi tra 1 e 12, e ne abbiamo 6 possibili per il dato normale, quindi 72 casi possibili. Quindi abbiamo qui 72, 12 per 6. I casi favorevoli, se qui inseriamo tutte le coppie ordinate possibili, qua del dato, diciamo, a 6 facce, qua del dato a 12 facce, ci rendiamo conto che affinché la somma sia esattamente 9, può uscire 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3, e poi ci fermiamo perché oltre 6 qui non possiamo andare. E quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilità a 6 settantaduesimi che pari a 1 dodicesimo, e questa è proprio la risposta esatta. Aggiungo che un esercizio molto simile era già capitato nelle nostre esercitazioni quando si pensava, insomma, alla preselettiva e abbiamo lavorato tantissimo con la probabilità. e quindi, insomma, per chi ha seguito magari i miei video, sicuramente sarà risultato più semplice rispondere a questa domanda. Ultimo esercizio del video, ma non ultimo in ordine di importanza, bisogna rispondere alla domanda acquisita. Una barca carica di sassi galleggia in una vasca. Se si gettano tutti i sassi in acqua, come varia il livello dell'acqua nella vasca? Allora immaginiamo questa barca carica di sassi e qui ho disegnato il livello dell'acqua. Ovviamente questi sassi, che hanno una densità maggiore dell'acqua perché poi tendono ad affondare, galleggiano. E galleggiando, quindi, la barca galleggia e riceve una... vi ricordo il principio di Archimede, un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto uguale al peso del fluido spostato. E quindi, l'acqua aumenta... inserendo i sassi all'interno della barca il livello dell'acqua aumenta perché viene proprio il fluido spostato poi dà la spinta verso l'alto e permette alla barca di galleggiare. Nel momento... e quindi la spinta è proporzionale al volume spostato, quindi al volume della barca che è sommerso. Nel momento in cui questi sassi vengono buttati in acqua e la loro densità è maggiore quindi, che succede? Che se la densità è maggiore a parità di volume vi è una massa maggiore. Quindi, in questo caso, che cosa accade? Che sicuramente il livello della barca sale i sassi vanno a occup... e quindi salendo il livello della barca scende il livello dell'acqua. Buttando i sassi, però, i sassi occupano un volume che non può essere trascurato e quindi quel tale volume farebbe rialzare il livello dell'acqua. Però, siccome la densità del sasso è decisamente maggiore della densità dell'acqua in questo caso il volume occupato è decisamente minore del volume che occupavano qui per galleggiare perché per tenerli sospesi doveva esserci molta più acqua perché dovevano compensare tutta la massa e quindi la conseguente forza peso ricordo che la forza peso è pari a m per g è un vettore e quindi per compensare tutta questa massa doveva essere sommersa una grande quantità della barca all'interno dell'acqua stessa. Sto cercando di spiegarmi nel miglior modo possibile a cui riesco perché ovviamente bisogna anche cercare di andarci ad intuito poi se non sono stato abbastanza chiaro potete scrivermi nei commenti e farmi sapere cosa ne pensate. Quindi ovviamente in questo caso la massa delle pietre, dei sassi ha una densità estremamente elevata e quindi il volume sicuramente spostano un volume ma che non compensa assolutamente che non ce la fa a farli galleggiare e quindi in questo caso il volume spostato deve essere decisamente minore perché nel primo caso il volume spostato essenzialmente permetteva ai sassi di galleggiare adesso non permette più di galleggiare quindi se galleggiano meno corpi vi è meno volume spostato. Leggiamola così un corpo se galleggia riceve una spinta dal basso verso l'alto uguale al peso del fluido spostato. In realtà anche i sassi ricevono una spinta dal basso verso l'alto ma in questo caso la spinta dal basso verso l'alto è insufficiente a farli galleggiare qui doveva essere sufficiente a farli galleggiare quindi qui riceve una spinta maggiore e qui il volume occupato dalla barca deve essere decisamente maggiore qui riceve una spinta minore e quindi il volume occupato da questi sassi che prima stavano all'interno della barca ovviamente è minore rispetto al primo caso quindi nel secondo caso per forza deve diminuire il livello dell'acqua. Spero di essermi spiegato bene io vi ringrazio tanto per insomma l'attenzione che mi dedicate vi avevo detto che vi era una cosa importante allora ci sono diversi diciamo che la risoluzione di questi esercizi non è fine a se stessa sappiamo che vi è il concorso ordinario e vi sono diversi gruppi studio allora io ho inserito anche all'interno di questi gruppi studio a 0.47 matematica applicata perché comunque è riconducibile sempre alla matematica quindi alle materie a una classe di concorso di carattere scientifico quindi vi sono diversi gruppi studio sto vedendo ho notato che insomma quelli Whatsapp e Telegram sono molto comodi esistono all'interno dei gruppi studio degli spazi di archivazione in Google Drive in cui vengono i voi colleghi essenzialmente vi autogestite e create del materiale da condividere vi condividete anche esercizi svolti link utili libri di testo che sono fondamentali manuali e quindi ovviamente vi può tornare utile il fatto di partecipare in maniera cooperativa motivazionale all'interno di questi gruppi allora qui sotto in descrizione vi aggiungerò il link di tali gruppi ovviamente non disperate se tali gruppi sono già pieni alcuni si sono riempiti negli ultimi giorni altri si stanno riempendo il facciamo così io ve li inserisco tutti se poi cominciate magari ci rimanete male che i gruppi si sono riempiti io comincio a togliere man mano i gruppi pieni dalla descrizione ovviamente e vi lascio solo quelli che ancora si devono riempire e niente spero di aver contribuito al mio meglio anche in questo video lasciatemi i commenti ditemi che cosa ne pensate vi auguro una buona continuazione di giornata un caro saluto da Francesco Samani grazie a tutti